La sua maestà è la leonessa. Anelli roteano da tutte le parti, in tutti i sensi, mentre il giocoliere dondolandosi su un filo a grande altezza regola quel bizzarro traffico. La famiglia Piccioncini oggi è andata a Luna Park e si diverte un mondo. C'è il premio supplementare di un bacio per il candido papaco Coricò che dirige ora un altro traffico. Zebre che volano sui cammelli e poi il salto nel cerchio del più bello del più bravo cavallo del circo. Orgoglioso si gira con dignità a raccogliere gli applausi. Gelsomino invece reclama un biscottino premio, altrimenti come ce la fa a portare tanto peso sul suo fragile groppone?